Passiamo ora al secondo sistema, quindi leggermente più difficile di quello oggetto del primo tutorial e vediamo quindi tutti i meccanismi di calcolo. Aperta parentesi graffa, 4x-2y uguale a 5, 6x-2y uguale a meno 3. Allora, la differenza rispetto a quello precedente è che qui non abbiamo dei termini che ci consentono di effettuare una rapida sostituzione perché abbiamo valori numerici accanto alla x e alla y maggiori di 2 e di 1. Quindi, essendo maggiori di 1, dobbiamo pertanto fare qualche passaggio in più. Quindi, andiamo subito al primo passaggio. Nel primo passaggio la cosa che ci viene più naturale è quella di isolare nella prima equazione l'incognita che non è negativa in maniera tale che il cambio dei segni avverrà in maniera più agevole. Quindi, 4x uguale 5 e il meno 2y, che era dall'altra parte dell'uguale, diventa più 2y. La seconda equazione la scriviamo sempre allo stesso modo. A questo punto è facilissimo perché dobbiamo dividere quindi per 4 tutti i termini dell'equazione. Quindi, abbassiamo il 4 della x, abbassiamo un 4, quindi 5 diventa 5 quarti, e dividiamo per 4 anche 2y, che diventa 2 quarti y. A questo punto effettuiamo le semplificazioni e avremo pertanto x uguale 5 quarti più 1 mezzo y. Nel passaggio successivo, scusate, nell'equazione, quindi, immediatamente sotto, quindi, che cosa possiamo fare? Visto che abbiamo trovato x, quindi, praticamente a quanto equivale x, sarà semplicissimo a questo punto sostituire nella seconda equazione 5 quarti più 1 mezzo y nel valore 6x. Quindi, 6x diventerà 6 per, aperta tonda, 5 quarti più 1 mezzo y, chiusa tonda, meno 2y uguale a meno 3, che sono i valori corrispondenti all'equazione che non sono stati chiaramente sostituiti. Nel passaggio successivo avremo la prima equazione che resterà sempre tale, quindi x uguale 5 quarti più 1 mezzo y. La seconda equazione, per effetto dei calcoli, diventerà 6 per 5, 30, 30 quarti, che possiamo semplificare per 2, che diventa 15 mezzi, più 6 per 1 mezzo y, che diventa 6 mezzi y, 6 diviso 2 fa 3, quindi 3y, meno 2y uguale a meno 3. Nel passaggio successivo, quindi, la prima equazione resta sempre così nell'attesa di risolvere y, quindi, mandiamo avanti i calcoli della seconda equazione, quindi 3y meno 2y diventa y, y, quindi, che può essere isolata, e quindi porteremo dall'altra parte 15 mezzi, che diventerà meno 15 mezzi, quindi avremo y uguale a meno 3, meno 15 mezzi. A questo punto, nel passaggio successivo, manteniamo sempre x uguale a 5 quarti più 1 mezzo y ed effettuiamo il minimo comune multiplo tra le quantità che sono rimaste una volta aver esplicitato y nella seconda equazione. Quindi faremo il minimo comune multiplo tra 1 e 2, perché è come se ci fosse dire meno 3 o dire meno 3 primi è la stessa cosa, quindi minimo comune multiplo tra 1 e 2 è 2, quindi 2 diviso 1 fa 2 per meno 3 meno 6, 2 diviso 2 fa 1 per meno 15 meno 15. Nel passaggio successivo, quindi, avendo ottenuto che y è uguale a meno 21 mezzi, potremo agevolmente finalmente sostituire alla prima equazione il valore di y, quindi avremo x uguale a 5 quarti più 1 mezzo per meno 21 mezzi, che è il risultato che ci è avvenuto nella seconda equazione per effetto dell'ottenimento della variabile di y. A questo punto effettuiamo il calcolo della moltiplicazione sulla prima equazione, quindi x uguale a 5 quarti più per meno meno 1 per 21 fa 21, 2 per 2 è 4, quindi avremo meno 21 quarti, x uguale a 5 quarti meno 21 quarti, riscriviamo il risultato di y che già abbiamo ottenuto, quindi y uguale a meno 21 mezzi. A questo punto facciamo il minimo comune multiplo della parte esplicitata di x, come abbiamo fatto in precedenza, per y, quindi avremo il minimo comune multiplo tra 4 e 4, ovviamente è 4, 4 diviso 4 fa 1, 1 per 5 è 5, 4 diviso 4 fa 1, 1 per meno 21, meno 21. Nel passaggio successivo, x uguale a 5 meno 21 farà meno 16, meno 16 fratto 4, e y uguale meno 21 mezzi. Non ci resta altro che effettuare pertanto la semplificazione in x uguale a meno 16 quarti, si può semplificare tutto per 4, quindi 16 diviso 4, o comunque 16 diviso 4, 16 quarti, quindi meno 16 quarti fa meno 4, e y uguale a meno 21 mezzi.